Non si dà l'azienda, non si dà l'azienda, non si dà l'azienda, non si dà l'azienda, è un gioco come ti pare, quello che pensi tu di fare puoi imparare. Te lo vado alla fortuna? Eh no, ma te ne vedrete cari, no? No, ok, che devo fare? Dio, dite che mi è! I punti ma, i punti! I punti di te! Ti nasi! Silvio! Ti giocava? Spate! Come va Silvio! Troppo bella! Non mi sono incazzate che tu! Ti ne hai una briscoite! Ti ho comandato a coppa? Ti ho una briscoite! piccolo eh? è piccolo eh? è piccolo eh? è piccolo amici io ti dà a me due punti spigliami che non ti dà a me due punti oh attento amici vado qui nel bustiere ma vado qui nel bustiere se c'è la saggezza nel mondo sono io sennò tu come dicevo la saggezza deve andare a fare la parola ma è stato così liscio liscio vai liscio vai la parola vabbè vabbè